Ciao a tutti, sono Alessio19870, alto gameplay di Metal Gear Solid 4, ho appena finito l'atto numero 2, adesso atto numero 3, in Europa. Atto 3, Tear de San, terzo sole, e parte un filmato. Nel gameplay precedente, Raiden è riuscito a salire sull'elicottero di Snake, Otacon e Naomi. Ecco Snake. Grazie a tutti. eh 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 prima di loro eh eh il prossimo next next ecco ancora next ancora eh prossimo eccolo tocca a lui e dai dai snake che piola eh sigaretta in bocca o o circondato e chi è vediamo un altro filmato ecco sigaretta accesa sigaretta accesa è Meryl ah 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 ecco la nuova la nuova pescamo di snake non è da sola e eccoli che stupido togliamo togliamo il filmato eh ah 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 sì 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 dunque dunque finisce qui i gameplay di Metal Gear Solid 4 un ciao da Alessio 19 870 al prossimo gameplay ok 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 ok